Valerio, 18 anni, neomaggiorenne, la prima volta al voto. Che cos'è per te la politica? La politica, la politica secondo me non sono i politici tanto per iniziare, più che altro è la rappresentazione della società a livello più statale possiamo dire, comunque anche dovrebbe essere una sorta di dialogo tra la società stessa, tra le varie idee della società, solo che più che altro finisce un po' male ultimamente secondo me, più un conflitto che un dialogo. Sei convinto già di per chi andrai a votare? Non vogliamo sapere ovviamente per chi? Sono un po' confuso, abbastanza confuso della verità, magari anche perché non ho avuto il tempo e magari anche la voglio da certi punti di vista di andarmi ad informare, quindi sono un po' poco informato, però più o meno le idee su cosa fare ce l'ho. E allora andiamo. Grazie a tutti. Valerio, adesso il tuo dovere l'hai fatto? So che hai fatto un anno, sei stato fuori, in Danimarca a fare l'Elasmus, adesso sei tornato, ti aspetta l'ultimo anno del liceo, come ti vedi tra dieci anni? Sempre qui in Sicilia o fuori? Non so bene ancora, sinceramente non mi vedo tanto in Sicilia, però se ci sono le possibilità che posso restare è comunque avere delle gratificazioni, perché no? Come la Sicilia è vista da lontano, tu sei stato in Danimarca così lontano da qui? Un po' con tanti problemi, sinceramente, anche se è molto bello. Abbiamo così tante risorse che non vengono usate e che dovrebbero essere usate, però finisce sempre un po' male. Però... Grazie per essere stato con noi e in bocca al lupo.